In FIPL per lavori, un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est verso Livorno. Per questi lavori è entrata chiusa ad Empoli Est in direzione Firenze. Sempre in FIPL i rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze e coda a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1. In A12 un chilometro di coda a tratti per lavori tra l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio e l'allacciamento con l'A11 in direzione Rosignano. Su raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Bargino e San Casciano in Val di Pesa in entrambe le direzioni. Su raccordo Siena-Bettol e rallentamenti tra Casetta-Monteaperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano-Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!